Allora, che nome date al vostro bambino e ai genitori? E per Federico che cosa chiedete qui oggi? Carissimi genitori, chiedendo il battesimo per Federico, che vuol dire il libro di fede, voi vi impegnate ad educarlo cristianamente. Siete disposti a questo compito? Troppo difficile, troppo facile, è più breve. E voi, padrina e madrina, volete aiutare i vostri amici a far crescere bene Federico? Sì, ecco, carissimi amici, carissimo Federico, con grande gioia la nostra comunità di amici, di parenti di questa parrocchia, di questa chiesa, ti accogliamo con il segno della croce sulla fronte. Dopo di me, anche voi farete il segno della croce sulla fronte. Come il segno della croce sulla fronte, poi il papà, poi la mamma, poi l'alzare, anche voi, la madrina e la madrina. E poi se ti metti qui al centro, chi vuole può venire. E ti metti qui al centro, chi vuole può venire a fare un segno.